la russia di putin ha formulato la sua proposta per un immediato cessate il fuoco ha detto esattamente che cosa vuole per interrompere il conflitto ed è curioso che i media occidentali europei e italiani poco spazio abbiano dato a questa notizia che invece mi pare della massima importanza che cosa vuole dunque la russia di putin per porre fini al conflitto d'ucraina essenzialmente vuole che in costituzione l'ucraina segnali apertamente la propria neutralità la russia di putin cioè vuole che si eviti in ogni modo la possibilità che l'ucraina entri nell'unione europea e soprattutto nella nato la russia vuole in altri termini che l'ucraina resti neutrale e dunque faccia la parte di stato cuscinetto tra oriente e occidente fra mondo russo o vecchio mondo sovietico se preferite e mondo euro atlantista una richiesta che pare in realtà ragionevolissima e che anzi nemmeno sarebbe stato necessario fare se si fossero rispettati gli accordi di minsk quelli che per inciso prevedevano che la nato non si dovesse espandere verso oriente accordi che sono stati biecamente violati che ci hanno portato a questa situazione di guerra che stiamo vivendo ebbene i giornali occidentali non danno notizia di tutto ciò o se la danno la danno quasi di sfuggita perché effettivamente l'europa vuole a tutti i costi far proseguire la guerra non vuole accettare quelle condizioni vuole avvicinarsi sempre più alla russia vuole accerchiarla per poi in ultima istanza rimuoverla annullarla e trasformarla in semplice colonia degli stati uniti l'europa fa questo perché è ovviamente caricata e mossa da washington rispetto alla quale washington l'europa stessa come più volte ho evidenziato è una semplice colonia ecco perché è l'europa in questa fase che non vuole trovare la pace ecco perché l'europa mossa da washington a far di tutto perché non si arrivi a una condizione di pace